Che canzone vuoi sentire? Di che Marti Ma quella di Maria o un'altra canzone? Quella di Maria Ma ti piace proprio tanto? Bello elegante con quella giacca Cosa? Bello elegante con quella giacca Proprio bello elegante E anche chic Com'è? Chic È chic Guarda come va bene questo signore È righi mamma Sì è un signore Ah è un ragazzo È un signore che è un ragazzo Ah qui era giovane Adesso è un po' più grande Però è sempre bello Anche più grande è sempre bello Sì è come quello che è un po' più piccolino Vero? Sì È un po' più così Oggi è un po' cresciuto E dopo era un po' più piccolino Era un po' così È un po' più piccolino Grazie a tutti.